Ciao, sono Michele Canali e questo è Canali di Storia, è il mio spazio YouTube per raccontare la storia in tutte le sue forme, lezioni, approfondimenti e curiosità. Anzi, se hai piacere di conoscere e approfondire un argomento puoi anche scriverlo nei commenti, io leggo tutto e cerco sempre dei nuovi spunti per scrivere nuove lezioni e registrare nuovi video. In questa lezione ti parlo della rivoluzione industriale che scoppiò nella seconda metà del Settecento in Inghilterra e che comportò un radicale cambiamento del sistema di produzione, in particolare nel campo dei tessuti, e che portò come conseguenza ad un profondo cambiamento del lavoro, della vita, della mentalità dell'uomo e quindi di tutta la società. È un passaggio epocale della nostra storia, della storia umana, perché con la rivoluzione industriale l'uomo conobbe un radicale cambiamento di mentalità, un ribaltamento dei valori fino allora esistenti, e iniziò una nuova fase della sua vita in cui il mercato, il guadagno, l'accrescimento della ricchezza materiale vennero ad essere considerati l'aspetto più importante. La rivoluzione industriale fu quindi uno spartiacque decisivo a cui voglio dedicare più lezioni. In questa lezione illustrerò brevemente la storia della rivoluzione, le tappe più importanti, le invenzioni decisive, e presenterò gli inventori, i nomi almeno, per avere chiaro in testa l'evoluzione del periodo storico. Mentre nella lezione successiva mi soffermerò su alcune considerazioni personali, alcune riflessioni per capire insieme la portata di queste innovazioni sulla vita, sul pensiero, sulla mentalità dell'uomo, che come possiamo immaginare ne uscì profondamente cambiata, ma anche il suo rapporto con Dio e con la fede. Nella seconda lezione dedicata alla rivoluzione industriale vedremo anche meglio di indagare le origini e le conseguenze, però secondo me prima è importante aver chiaro i passaggi importanti che hanno caratterizzato questo momento storico per capire in definitiva cosa è stata la rivoluzione industriale che inizia con il lavoro che è fatto nelle botteghe, un lavoro artigianale, e poi alla fine invece ci consegna il lavoro di fabbrica, il lavoro industrializzato. Poi farò anche una terza lezione sulla diffusione in Europa, mentre in questa mi limiterò all'Inghilterra dove tutto nasce, sarà interessante vedere anche le differenze fra la società inglese e quella continentale. Quindi tutte queste cose, se apprezzi questo lavoro intanto guarda tutto il video così puoi commentarlo, iscriviti al canale e noi iniziamo. Allora partiamo dall'Inghilterra, siamo più o meno nell'inizio metà del settecento e nell'attività preindustriale il lavoro si svolge come detto nelle botteghe. Il lavoro nelle botteghe era sottoposto ai regolamenti delle corporazioni che erano una sorta di sindacati anteliteram in cui aderivano tutti i lavoratori di quello stesso mestiere in modo da costituire una sorta di aiuto e di difesa. Nella bottega artigiana i membri erano sempre gestiti da un capomastro, da un maestro, avevano le stesse competenze, conoscevano tutte le fasi della lavorazione di un prodotto. I lavoratori erano i padroni del proprio lavoro, ma erano soprattutto del prodotto finale. Che costruivano, che producevano, erano dei veri e propri professionisti. Il lavoro richiedeva pochi attrezzi. Era manuale, per esempio la lavorazione del cotone era totalmente manuale e questo richiedeva una notevole competenza professionale, una notevole capacità, che si acquisiva solo dopo anni di lavoro e di mestiere. Accanto alla bottega esisteva da sempre il lavoro a domicilio, che era diffuso soprattutto nel settore tessile. Questo modello di produzione, quindi bottega e casa, possiamo definirlo bloccato, in cui non era avvertita l'esigenza di cercare mercato, di liberalizzare appunto il mercato, perché questo anche era molto ristretto, era relegato a qualche scambio a livello locale, era finalizzato sostanzialmente alla sussistenza della famiglia e della comunità. È in questo contesto che emerse la figura del mercante, che fu colui che lentamente mise in crisi questo sistema delle corporazioni e introdusse una mentalità imprenditoriale. Cioè lui era uno che comprava i manufatti nei luoghi appena detti, la bottega, il domicilio, per poi rivenderli. Lui acquistava e rivendeva non solo nella comunità o nelle zone in cui viveva, ma si spostava anche, perché aveva appunto l'esigenza di piazzare il prodotto che aveva. Quindi stava nascendo un mercato moderno, che prima, attenzione, non c'era come idea, cioè non esisteva l'idea di acquistare per rivendere. Con il tempo il mercante che girava si interessò a fornire anche la materia prima, la lana, il cotone, alla famiglia o alla bottega, che poi la lavorava di proprio conto e il mercante alla fine si riprendeva il prodotto finito. In poco tempo l'artigiano la bottega, divennero sempre più dipendenti dal mercante che vendeva i loro prodotti perché garantiva anche maggior lavoro. Il mercato iniziava piano piano ad allargarsi. Lentamente il mercante che iniziò a chiedere di volta in volta miglioramenti, aggiustamenti, perché il prodotto doveva essere cambiato per essere anche meglio venduto. Il mercante si rivolgeva soprattutto ai lavoratori che stavano nelle campagne. Questo perché nel Settecento in Inghilterra si era compiuta quella che oggi chiamiamo la rivoluzione agricola. In tanti libri di storia la rivoluzione agricola è messa come una delle cause della rivoluzione industriale. La rivoluzione agricola significò che la terra sostanzialmente finì in mano a pochi possidenti, i quali recintavano le terre, cioè le facevano proprie, ed eliminavano pian piano i piccoli proprietari. Emersero così delle ampie unità di produzione gestite con mentalità imprenditoriali che voleva introdurre macchinari o sistemi di rotazione delle culture per migliorare appunto il sistema produttivo. Anche i lavoratori erano trattati con mentalità imprenditoriale perché erano salariati, cosa che poi vedremo nelle fabbriche. Questo causò un forte aumento della produzione agricola e favorì un vivace mercato interno, ma rappresentò anche una domanda per i prodotti inglesi, una domanda che era raggiunta dal mercante che appunto girava per vendere i prodotti che erano lavorati nelle botteghe. Se sono riuscito a spiegarmi sostanzialmente stava nascendo in Inghilterra quindi un vivace mercato interno che univa anche le campagne. Questo mercato era favorito anche perché in Inghilterra non esistevano barriere doganali, gabelle, insomma l'isola possiamo dire che era il più grande mercato interno d'Europa. Nel XVII secolo alla vigilia della rivoluzione industriale il mercato inglese era dinamico, era intraprendente e questo rese possibile anche per il fatto che le videocomunicazioni venivano migliorate, erano buoni e non efficienti, per esempio grazie alla manutenzione si ampliarono i canali navigabili e di pari passo c'è da dire che l'Inghilterra favorì anche il mercato con l'estero. L'estero non si intende l'Europa ma le colonie che avevano necessità sempre di oggetti, di tessuti a buon mercato. Fino al 1750 il mercato inglese rafforzò molto la sua posizione sulla scala mondiale soprattutto grazie dopo alla vittoria della guerra dei sette anni in cui l'Inghilterra consolidò il proprio primato coloniale. Questa guerra si concluse nel 1763 con il trattato di Parigi che rappresentò un drastico ridimensionamento per la Francia e la Spagna. Il commercio con le colonie quindi rappresentava un vasto territorio che gli inglesi però seppero sfruttare a dovere. La politica del governo inglese tese a ridurre il privilegio delle grandi compagnie monopolistiche per consentire anche l'ingresso di uomini nuovi per promuovere la libertà d'iniziativa con le colonie. Commercio estero fu il tratto distintivo secondo mondo molti storici il tratto peculiare dell'economia inglese soprattutto perché il controllo del mercato internazionale permise anche un maggior approvvigionamento di cotone cotone grezzo che diventerà la materia prima della rivoluzione industriale. In nessuna parte del mondo il commercio era tanto sviluppato come in Inghilterra forse solo in Olanda che mostrava una società simile, una società molto dinamica, molto intraprendente. In questo contesto il mercante inglese girava per vendere i suoi prodotti e invocava sempre miglioramenti, accorgimenti da fare all'artigiano per realizzare un prodotto migliore affinché fosse più vendibile in questo contesto. Difatti è in questo momento che scocca la rivoluzione industriale. Che cosa fu la rivoluzione industriale? Altro non fu che tutta una serie di innovazioni che meccanizzarono il processo di lavorazione dei tessuti, in particolare del cotone, che doveva essere più commerciabile e che stimolò quindi innovazioni. Le innovazioni stimolarono altre innovazioni tutte tese a migliorare la produzione del cotone. A questo poi si diffuse l'energia del vapore perché questo permetteva di essere indipendenti dalla forza animale o umana. Successivamente accatena i miglioramenti nell'industria siderurgica perché, come è facile immaginare, serviva sempre più ferro per produrre macchinari che dovevano essere applicati poi ai cotonifici. Insomma, questa è tutta una serie adesso di passaggi che vediamo lentamente, ma per capire che la rivoluzione non fu una rivoluzione intellettuale, ma fu una cosa molto pratica, molto concreta. Il perché proprio dell'industria tessile del cotone. Questo lo vedremo nella prossima lezione qui. Ora cerchiamo di capire brevemente quello che accadde, partendo da capire come avviene la produzione, la lavorazione del cotone, che è di quattro fasi sostanzialmente. La prima è di preparazione, ovvero il cotone grezzo viene scelto, viene pulito, viene pettinato, si dice, a cui poi si passa la filatura, procedimento che forma il filo del cotone. Formato il filo, questo deve essere, viene passato alla tessitura, in cui il filo è sistemato a formare il tessuto, perché è sistemato in ordito o trama, ovvero il filo orizzontale e il filo verticale che creano l'intreccio del tessuto. Alla fine la finitura, ovvero che sono diversi passaggi che rendono il tessuto indossabile e commerciabile. Nel giro di poco tempo, nel giro di pochi anni, tutto questo processo divenne completamente meccanico e avvenne come una botta risposta, nel senso che la macchinizzazione di un passaggio costrinse altri a migliorare il passaggio precedente e successivo, perché altrimenti la produzione si sarebbe bloccata o alterata. Questi miglioramenti furono dati, grazie al lavoro, alle prove di artigiani, di inventori che di volta in volta si mettevano a costruire, aggiustare, a migliorare, a velocizzare un macchinario. Quindi un vero e proprio lavoro manuale, pratico. Ecco in questo consiste la rivoluzione industriale. La prima invenzione fu la navetta volante, siamo nel 1733, John Kay, che rese possibile il miglioramento del telaio. Il telaio crea le tele del tessuto, la navetta è un piccolo manufatto di legno, all'interno c'è avvolto il filo, che deve scorrere sopra i fili che sono tesi sul telaio. Quindi ai lati del telaio stavano i due lavoratori che si lanciavano la navetta nell'altro e questo permetteva l'intreccio dell'ordito e della trama che andavano così a formare il tessuto. L'ordito è il filo verticale, la trama è quello orizzontale. La diffusione della navetta velocizzò molto la tessitura, ma il procedimento che invece crea il filo, la filatura, era ancora manuale. È per questo che venne migliorato grazie alla Jenny di James Airgraves. Era un falegname, era un tessitore che nel 1765 brevettò questa Jenny. La Jenny era una filatrice meccanica che permetteva di lavorare su otto fusi contemporaneamente. Il fuso a cui era avvoltolato il cotone grezzo sostanzialmente. Fino a quel momento il fuso veniva lavorato a mano singolarmente dalle abili dita di un artigiano che creava il filo. Ora con l'invenzione di Airgraves, otto fusi contemporaneamente creavano otto fili e in più la macchina riusciva a diversificare la durezza del filo, che poi passava alla tessitura detto prima. Questa invenzione però durò poco, perché nel 1769 Arkwright, un barbiere, inventò il filatoio idraulico, che funzionava come la Jenny, ma la ruota che azionava i movimenti dei fusi, invece di essere manuale, era mossa dall'acqua, dalla forza idraulica. Questa invenzione permise di allestire una prima forma di fabbrica sulle rive di un fiume e i macchinari sfruttavano quindi la forza dell'acqua. Fatto sta che in pochi decenni tutti questi complessi passaggi della filatura divennero meccanici. Quindi presto permise la produzione di una grande quantità di fili, lavorati e pronti per diventare tessuto, che invece, come se sono riuscito a spiegarmi, era rimasto un po' indietro la tessitura. Fu il telaio meccanico di Edmund Kartwright a superare l'ostacolo, perché inventò un grosso macchinario che tesseva i fili. Però il simbolo di tutto questo, il simbolo della rivoluzione industriale fu la macchina a vapore, grazie alla quale la meccanizzazione di cui ho parlato fino adesso fu resa possibile, perché altrimenti il lavoro doveva rimanere sempre legato alla forza umana, alla forza animale. Ma nel 1769 James Watt brevettò una macchina che creava energia con il vapore e questa macchina era alimentata dal carbone. Questo era il miglioramento di quella che in realtà è la vera macchina a vapore, quella di Newcomen, che bruciando carbon fossile, riscaldava acqua e produceva vapore. Ma noi ricordiamo questa di James Watt, i libri ricordano questa di James Watt, perché fu quella che permise l'applicazione nell'industria e divenne il simbolo della rivoluzione industriale. Senza la macchina a vapore non sarebbe stata possibile la rivoluzione industriale, perché questo fu una forza di energia superiore a qualsiasi altra forza esistente, umana, animale, ma soprattutto rese il lavoro indipendente dai limiti ambientali della natura, per esempio dai fiumi dei corsi d'acqua. Per l'uomo del tempo era come avere a disposizione la forza di 500 cavalli, senza tra l'altro doverli addomesticare o gestire. Ma soprattutto la sua forza era inesauribile, bastava solo il carbone, di cui l'Inghilterra era convinta che fosse un combustibile infinito. Senza l'invenzione di questa fonte di energia tutta la rivoluzione industriale sarebbe stata impensabile. La rivoluzione infatti crebbe, si sviluppò soprattutto vicino ai giacimenti di carbone, di cui come detto l'Inghilterra era ricchissima. Ma con questa macchina l'industria poteva per assurdo nascere in qualsiasi parte del mondo, nei deserti, nelle tundre più inospitali, nelle montagne, perché l'energia non era più vincolata alla natura, come la macchina di Arkwright, che doveva essere alimentata dalla forza idraulica. Tra gli effetti della macchina a vapore ci fu anche la diffusione della rivoluzione industriale, infatti fuori dall'Inghilterra, a cui dedicherò una lezione specifica. Si propagò anche in Europa, anche negli Stati Uniti e in altre parti del globo, però non in tutto il mondo. Ci fu sempre una parte del pianeta, ancora oggi, che rimase sostanzialmente estranea al processo di industrializzazione. Il perché non tutto il mondo conobbe l'industrializzazione come in Inghilterra o come in Europa, questa è una domanda senza risposta, o meglio dire una domanda che ha mille risposte. Fatto sta che buona parte della popolazione mondiale rimase fuori dal progresso industriale e tecnologico e anche materiale, che fu la conseguenza. Queste macchine andarono a migliorare la produzione tessile, erano tutte costruite in ferro. Per questo motivo l'industria siderurgica conobbe un processo di rapida espansione e rappresenta l'altro grande capitolo della rivoluzione industriale. Fino a quel momento in Inghilterra, negli altiforni, era adoperato il carbone a legna, che però produceva un ferro a bassa qualità. In più il carbone a legno non era una risorsa infinita, come sappiamo bene oggi, ma anche al tempo veniva usato per esempio per fare il fuoco, quindi erano ben consci che era una risorsa finita e quindi destinata a fallire, se non per il fatto che la richiesta di ferro però e di macchinari stava aumentando a dismisura. Questo quindi portò diversi inventori ad applicarsi. Prima si cercò di sostituire il legno con il coche, un carbone artificiale che si ottiene riscaldando il carbon fossile, ma la lavorazione del ferro con il cambio di combustibile divenne solamente più complicata, lunga, i risultati furono insoddisfacenti, no? E questo ci suggerisce anche che l'invenzione da sola non basta per diventare rivoluzione industriale, doveva essere anche applicata. L'applicazione è fondamentale, altrimenti non aveva successo. Fu solamente il sistema brevettato da Henry Court, il pudellaggio che fu vincente. Fu un sistema combinato all'uso della macchina a vapore. Questo sistema permetteva il rimescolamento, il padding, cioè da cui pudellaggio, a cui fu sottoposto il ferro e si ottenne la ghisa, cioè per la prima volta si ottenne una lega di ferro e di carbonio che permise un utilizzo su un'amplissima scala. Ferro per costruire macchine, nell'edilizia, strumenti, nelle abitazioni. Tant'è che nel 1775 e il 1779, le date che sto leggendo perché ovviamente non è che le ricordo tutte, venne costruito sul fiume Severn, il primo ponte interamente in ghisa. Le celebrazioni del ferro ebbero l'apice nell'esposizione universale a Londra nel 1851. Quindi l'esplosione davvero del ferro. In questi anni l'Inghilterra, nel campo della siderurgia, aveva una produzione più alta rispetto a tutto il resto del mondo messo insieme. E questo segnò il passaggio da una economia agricola artigianale a una economia industriale fondata sulla fabbrica. I primi proprietari di fabbrica erano i mercanti descritti all'inizio della storia, che si resero presto conto del potere di vendita del prodotto cotoniero finito. La fabbrica divenne il luogo di lavoro, separato dall'abitazione, dalla casa, e vi erano concentrati un gran numero di uomini, che non si conoscevano fra loro, ma anche di donne, di bambini, che in cambio di un salario erano chiamati a lavorare. Il lavoro in fabbrica era diverso, perché dovevano lavorare in modo disciplinato, sotto sorveglianza, insieme alle macchine e i primi lavoratori non erano abituati. Il lavoro divenne strettamente vincolato alla macchina, che giorno e notte doveva continuamente essere alimentata. Il lavoro diventava organizzato, parcellizzato, nel senso che ogni lavoratore era chiamato a svolgere funzioni molto elementari, molto elementari, molto semplici, come muovere una leva, azionare una ruota, quindi un lavoro semplificato, ripetitivo, per nulla qualificante o gratificante, come erano abituati gli artigiani discritti all'inizio. Gli orari di lavoro erano molto pesanti, erano dalle 12 alle 16 ore giornaliere, le condizioni erano spesso gravose e non pensiamo che questi discorsi riguardano solo l'Ottocento, anche perché oggi per moltissimi purtroppo è così. Ma nel XVIII secolo i lavoratori dovevano lasciare la campagna, dovevano spostarsi in città, accontentarsi di soluzioni abitativi di ripiego precarie, condivise con altri, in case spesso fatiscenti, in pessime condizioni igieniche, e questa è una delle conseguenze proprio dell'industrializzazione. Ma di questi aspetti poi parlerò meglio nella lezione successiva. La consapevolezza dei limiti, delle difficoltà, del nuovo modo di lavoro in fabbrica portò presto a delle manifestazioni di scontento e di opposizione sociale. Nel 1799 il tessitore Ned Lude, in realtà non sappiamo con certezza si sia mai realmente esistito. Fatto sta che la leggenda narra che preso dall'impito della passione avrebbe distrutto un telaio e da questo gesto prese il nome del luddismo, che divenne una vera e propria guerriglia che pontava alla distruzione delle macchine, perché la macchina divenne il simbolo della disumana condizione di vita in cui stavano i lavoratori. Fu per questo che vennero inasprite le leggi contro ogni forma di organizzazione, di sciopero, di rivendicazione salariale e anche con l'introduzione della pena di morte nel 1812. Al concetto di ceto, dell'anzian regime, che era legato alla nascita, al godimento di particolari diritti, si sostituì quindi nell'800 il termine di classe, definito in rapporto al ruolo svolto all'interno del processo produttivo. La borghesia andò a definire chi era proprietario dei mezzi di produzione, il proletario colui che era ricco solamente della forza delle sue braccia. Dopo gli episodi di luddismo la protesta dei proletari fu impugnata da leader politici che iniziarono a sperimentare forme di aggregazione pacifica con manifestazioni, comizi, scioperi, in particolare per protestare contro le leggi che vietavano gli stessi scioperi. Da queste lotte, da queste prime lotte, nacquero le trade union, ovvero il nucleo originario dei successivi sindacati. Per concludere, un'ultima considerazione personale. Come sappiamo questi scontri portarono molti studiosi, filosofi, a predire uno scontro epocale tra il proletariato e la classe dei borghesi. Questa polarizzazione proletari-borghesi, questo scontro, in realtà poi epocale definitivo come molti profetizzavano. Questo perché la rivoluzione industriale nascose benefici insperati che poi vennero chiariti successivamente. Un diffuso benessere economico e materiale di cui beneficiarono ampie porzioni di popolazioni. E questo non era facilmente prevedibile. Cioè si assistette a un generale miglioramento materiale. Si migliorò grazie questo anche al miglioramento del sistema di produzione dei beni, dei manufatti, fino alle periferie. Questi cambiamenti crearono anche nuovi bisogni, nuove possibilità, nuovi posti di lavoro in ambiti prima impensabili come lo svago, per esempio, il divertimento, il tempo libero, spettacoli, viaggi, alberghi, ristoranti. Cioè nacque tutto un nuovo settore di addetti ai servizi, professionisti, impiegati e quant'altro che furono il simbolo di ricchezza e di benessere. E anche questa fu una conseguenza della rivoluzione industriale.